parlare del grandis per me è parlare come un pezzo della della mia vita l'ho scelto l'ho scelto come scuola perché ritengo che qui ci sia la possibilità per i ragazzi per il loro futuro di essere se stessi e uso parole non mie ma che le credo profondamente mie di osare e lo dico davvero col cuore sono le parole di Steve Jobs non perdete tempo e osate abbiate il coraggio di scegliere in questa scuola c'è questa possibilità perché è una scuola che offre un'offerta formativa variegata ed ha la possibilità quindi di scegliere un percorso ma anche di rendersi conto di averlo magari sbagliato perché scegliere a 14 anni non diventa così semplice e avere qualcuno che ti accompagna e ti rindirizza e che dà il vero senso il valore alla scuola è una scuola inclusiva e quando intendo inclusiva vuol dire accogliente non solo verso la disabilità ma anche verso la disabilità ed ha percorsi particolari che penso rispondano molto chiaramente a quello che può essere la nostra visione del futuro qui ogni ragazzo può sperare ogni ragazzo ogni studente studentessa può sperare anzi deve credere di avere la possibilità di essere ciò che vorrebbe nel suo futuro l'istituto grandis ha una varietà di indirizzi che partirei dall'analisi generale che sono i 5 indirizzi classici ovvero l'istituto professionale socio sanitario e l'istituto professionale con l'indirizzo ottico l'istituto professionale per quanto riguarda i servizi commerciali l'istituto professionale per quanto riguarda servizi e manutenzione assistenza tecnica e l'istituto tecnico turistico ma non solo ha un dipartimento poi di sostegno molto particolare e direi unico per la capacità di omologare tutti i cinque assi insieme e con questi ragazzi e poi e questo non ultimo lo dico per ultimo ma non ultimo offre la possibilità di ripensarsi anche come adulti perché ci sono i corsi serali e l'importanza dei corsi serali di tutta questa tipologia di corsi diurni che viene ripetuta nel serale dalla possibilità a chi vuole avere prospettive di cambiamento di crederci l'abbiamo avuto posso ricordare alcuni esempi che mi hanno comunque molto colpita soprattutto in questo particolare momento e penso agli operatori sociosanitari e penso a quanto a quanti ne ho visti mettersi in gioco da adulti per cercare di arrivare ad un diploma e per avere una qualità di vita migliore questa è la scommessa che come scuola noi stiamo facendo per il futuro sono una ragazza del commerciale professori hanno iniziato subito ad approcciarsi in modo molto positivo con noi e soprattutto quando abbiamo qualche problema ci sono sempre per noi questa scuola offre moltissimi ambiti lavorativi in particolare ci sono moltissimi indirizzi ma soprattutto il mio in ambito economico ci dà la possibilità di entrare sia nel mondo del lavoro immediatamente sia in ambito universitario la scuola in particolare con lo stage ci dà il permesso di fare le nostre prime esperienze lavorative nelle nostre prime imprese alla fine del nostro percorso di studi molto spesso con il diploma le stesse imprese richiamano quelli che sono gli allievi che appunto sono usciti dal diploma per entrare già nel loro mercato del lavoro e per essere finalmente assunti l'ottico è un corso che ha sede in poche scuole in tutta italia infatti molta gente non sa nemmeno dell'esistenza ma qualcuno siamo fortunati perché è presente all'interno dell'istituto sebastiano grandis l'istituto vanta di due laboratori ovvero quello di esercitazione di lenti oftalmiche e quello di optometria e contattologia con strumenti analoghi a quelli che sono presenti in un negozio di ottica il vantaggio di questa scuola è che si possono utilizzare i laboratori già dal primo anno appunto dal primo con il laboratorio di esercitazione di lenti oftalmiche nel quale si può imparare a costruire un occhiale da zero invece dal terzo anno in poi quindi con il laboratorio di optometria e contattologia si impara a fare una visita completa e applicare e scegliere le lenti a contatto adeguate inoltre questo indirizzo permette anche di visitare fiere internazionali o aziende sempre riguardanti l'ottica questo indirizzo prevede anche delle materie che sono teoriche come anatomia e ottica inoltre finiti cinque anni c'è la possibilità di fare anche un esame ovvero l'abilitazione il quale ti abilita alla professione dell'ottico e poi finiti questi cinque anni si può proseguire o direttamente nel mondo del lavoro con numerose possibilità oppure andando all'università quindi approfondendo i propri studi ciao sono sonia 18 anni e frequento l'ultimo anno al grandis indirizzo socio sanitario questo laboratorio di scienze anche aperto al territorio le scuole medie nel quale nel bienio si svolgono attività di scienze integrate mentre nel triennio l'attività riguarda con la materia cultura e medico sanitaria che anche una materia dominante del nostro indirizzo altre materie importanti del nostro indirizzo sono metodologie operative anche chiamato laboratorio e psicologia generale d'applicata parlando proprio di quest'ultima le attività sono accompagnate da laboratori nei quali si studiano e si analizzano situazioni di casi mentre per metodologie operative il laboratorio è molto utile per la creazione e la pianificazione di attività ludiche per bambini ma non solo anche ad anziani ogni situazione di persone e anche per la creazione di lavoretti da utilizzare per esempio nello stage come la creazione di un libro questo corso permette anche l'integrazione di attività extrascolastiche come ad esempio nati per leggere che una collaborazione con delle biblioteche sono miriam frequento il corso socio sanitario sono all'ultimo anno volevo parlare un po degli stage e delle esperienze che vengono svolte durante il triennio le interza viene svolta un'attività con i bambini si farà uno stage estivo nei parking nelle scuole infantili dopodiché durante l'anno invece c'è la possibilità di poter frequentare dei dopo scuola dando il proprio aiuto con bambini che sovente hanno delle situazioni di disagio che possono essere anche solo perché appartengono a una cultura differente i genitori parlano una lingua straniera in casa dopodiché il quarto anno c'è la possibilità di scegliere se effettuare lo stage in casa di riposo o con persone affette da disabilità e durante l'anno ci sono numerose alternanze scuole lavoro proposte dove si mettono in gioco due associazioni principalmente che sono la pro handicap con cui a domenica alterne si portano i ragazzi in gita e ovviamente si visitano sempre posti diversi dove si fanno dei laboratori e questo piace molto anche a noi volontari e spesso ci divertiamo più dei ragazzi dopodiché l'ultima è l'alternanza invece con la cascina di san rocco dove noi volontari andiamo e facciamo lezione ai signori con delle disabilità e soprattutto anche per il mantenimento delle capacità residue quindi la conoscenza del corpo oppure un po di matematica un po di italiano un po di storia e ovviamente le attività sono libere le scegliamo noi quindi anche in base al piano di lavoro che ci viene consegnato all'inizio del progetto quest'anno nonostante il periodo stiamo partecipando a un progetto erasmus per quanto riguarda già i diplomati e quindi la possibilità di soggiorno all'estero e di stage che offrirà possibilità poi lavorative non indifferenti è una caratteristica del grandis che ricopre tutti i vari indirizzi e può offrire quelle che sono le opportunità a dei ragazzi che guardano al futuro e al mondo e questo è davvero bello oltre alla conoscenza linguistica alle nuove modalità del vivere guarda all'europa ma adesso mi viene in mente ad esempio al canada ai paesi del nord europa in modo particolare guarda la turchia insomma è un'esperienza per essere cittadini nel mondo ciao mi chiamo analisa ciao mi chiamo sarà non preoccupatevi siamo sempre a cuneo e ci troviamo il grandis turistico loro sono due ragazzi che faranno un'esperienza assieme a noi per un programma di intercultura infatti il grandis turistico vuol proprio dire apertura al mondo del turismo e non solo studiamo tre lingue straniere geografia ed economia turistica e storia dell'arte che ci permette di immergerci nelle bellezze del mondo con particolare attenzione al nostro territorio ad esempio vengono organizzate uscite sul territorio dove vestiamo i panni di guide turistiche per entrare in contatto con la realtà locale per poi saperla promuovere un domani i turisti il tecnico turistico inoltre apre grandi sbocchi universitari grazie all'ottima preparazione che ci viene offerta abbiamo la possibilità di accedere a molteplici facoltà come economia lingue legge cultura e mediatore culturale turismo possiamo conseguire lauree triennali magistrali specifiche non solo il turistico è anche apertura al mondo del lavoro dove possiamo fare esperienza metterci in gioco e capire come si organizza un evento infatti collaboriamo molto spesso con molte imprese turistiche locali come ad esempio la tl conitus lascom o kairos eventi ed ancora il tecnico turistico vuol dire progetti con l'estero spesso incentrati sul turismo sostenibile grazie ai quali abbiamo avuto la possibilità di fare scambi e di avere contatti con stati europei e non per esempio due anni fa abbiamo avuto l'opportunità di scoprire l'irlanda sostenibile in tre settimane grazie al pon europeo e nonostante il covid non ci fermiamo anche quest'anno per la classe quarta è stato organizzato un progetto con il canada per concludere il grandi sono una scuola inclusiva infatti abbiamo studenti che arrivano da 40 nazioni diverse ma qui ognuno trova il suo posto grazie anche al bel clima che si è creato nei studenti ma soprattutto tra studenti e insegnanti ma al grandi turistico c'è questo e molto di più venite voi stessi a scoprirlo io sono aurelio e oggi ci troviamo all'ips smat di cuneo qui all'ips smat svolgiamo un corso articolato in cinque anni in cui al termine di esso si ottiene un diploma in assistenza manutenzione tecnica nel corso degli anni oltre ad affrontare le materie di base come matematica letteratura e chimica si introducono anche le nuove materie di indirizzo come meccanica elettronica elettrotecnica che verranno poi approfondite nei vari laboratori infatti questa scuola possediamo vari laboratori di informatica di meccanica di pneumatica e anche di elettrotecnica elettronica da quest'anno si può al termine dei primi tre anni si viene volendo qualificati come operatore elettrico ottenuto il diploma la scuola prepara anche per gli studi universitari che per chi vorresse continuare laurearsi infatti io sto valutando l'idea di continuare gli studi nell'ambito dell'ingegneria dal terzo anno in poi la scuola organizza insieme alle varie aziende qua del territorio lo stage infatti grazie allo stage molti studenti prima ancora di diplomarsi riescono a trovare lavoro al termine del corso di studi questa scuola mi è piaciuto il fatto che noi riusciamo a relazionare sia le parti teoriche in classe e poi riuscendole ad applicare in laboratorio facendo sì che abbiamo un aspetto generale di tutti gli aspetti della manutenzione che sia elettrico meccanico elettronico informatico